Ebbene ritrovati i gentili telespedatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Subito andiamo a parlare di cronaca nel servizio di apertura. Dall'emergenza maltempo, l'emergenza acqua potabile. In poche ore, tra sabato e ieri, le precipitazioni hanno messo in ginocchio la Val d'Arzino e una decina di comuni della montagna e della Podemontana porderonese. La bomba d'acqua, che nella serata di sabato, erano circa le 22, si è abbattuta come un'onda distruttrice sull'alta Val d'Arzino, ha causato anche ingentissimi danni alla presa d'acqua e al sistema di rifornimento idrico sopra la località San Francesco, gestito dalla società Idrogea. Un'enorme quantità di detriti, portata con una terribile violenza dalla piena del torrente Comugna, ha causato da prima una voragine, poi ha riempito di detriti e massi la galleria dell'impianto idrico, mettendo di fatto fuori servizio un danno ingentissimo che già dalla mattinata di ieri ha lasciato senza acqua una decina di piccoli centri montani che sono allacciati alla rete idrica alimentata dall'impianto di San Francesco in comune di Vito d'Asio. Per ripristinare la situazione ci servono almeno 4-5 giorni di lavoro, fanno sapere. Nel frattempo Idrogea e i comuni si sono organizzati per garantire l'acqua potabile con autobotti e cisterne e già nel primo popoligio di ieri alcuni dei paesi rimasti a secco erano arrivate le autocisterne. L'emergenza è scattata nei comuni di Vito d'Asio, Forgaria, Pinzano al Tagliamento, Castelnuovo del Friuli, Clausetto, Travesio, Sequals, Arba, Vivaro, Fanna e Meduno. Tutti i sindaci della popolazione erano stati avvisati già dalla notte di sabato. Poco prima di mezzanotte una prima comunicazione di Idrogea avvisava che potranno verificarsi i fenomeni di riduzione di portata e pressione dell'acqua unitamente alla presenza di torbidità in rete. In presenza di torbidità al rubinetto si raccomanda di non utilizzare quindi l'acqua per uso potabile e per scopi alimentari. Una prima stima era di oltre 15.000 utenze, cioè famiglie, senza acqua. Già di prima mattina Idrogea aveva disposto i lavori per il ripristino dell'impianto, ma una seconda data di maltempo, con forti piogge, vento, grandinate, ha sfertato la zona e l'intera valle anche nella mattinata di ieri non ha certo agevolato l'opera. Solo nel pomeriggio il tempo si è via via stabilizzato facendo spuntare anche qualche timido raggio di sole e scavatori, sette camion hanno comunque lavorato incessantemente fino a sera. Un lavoro agevolato rispetto alla viabilità da garantire anche dalle squadre della protezione civile e dai carabinieri della stazione di Castelnuovo che erano sul posto già dalle prime ore di ieri mattina. Bombe d'acqua accompagnate da vento forte, raffiche, ieri pomeriggio hanno superato anche i 120 km orari sul Mataiure e sul Monte Lussari e sfiorato i 100 a Civitale, alternate poi a Schiarite e a nuove precipitazioni intense. Un fine settimana da incubo con allagamenti, frane, smutamenti, chiusure di strade anche per consentire alle rimozioni di alvi dei rami caduti. È il bilancio dell'ennesima ondata di maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sulla regione con ripercussioni pesanti anche nel Friuli Venezia Giulia, tra la provincia di Udine, Gorizia e anche Trieste oltre che nella provincia di Pordenone. Nella giornata di ieri la protezione civile ha segnalato allagamenti a macchia di Leopardo nei comuni di Artaterme, San Leopardo, Prepotto, Campolongo-Tapogliano, Cividale e anche nella periferia del Capoluogo. Il vento ha provocato peraltro la caduta di alberi, in particolare nelle valli del Nattisone ma anche a Tricesimo, Tavagnacco, in montagna, a Moggio e Chiusaforte. In alcuni casi la caduta degli alberi ha avuto come effetto il blackout, conseguenza della caduta di alberi sulle linee elettriche. Nel pomeriggio di ieri in regione risultavano 1.386 utenti disalimentati, la stragrande maggioranza dei quali ben 1.056 nell'area udinese, tra i casi segnalati quelli di Bertiolo, Manzano e Lignano, dove l'altra sera anche l'illuminazione pubblica è data in cortocircuito verso le 22.30. Dissesti e smottamenti hanno interessato in particolare il comune di Malborghetto-Valbruna. Quanto alla viabilità, il caso forse più eclatante era presentato dalla strada statale 52 Carnica, chiusa al traffico tra Paluzza e Passo Monte Croce nella mattinata di ieri riaperta dopo che i tecnici dell'ANAS avevano provveduto alla rimozione del materiale franato a caso delle piogge nel tardo pomeriggio. Ma a scopo precauzionale per la caduta di alberi è stata temporaneamente chiusa anche la provinciale 119 ad Aquileia e chiusa è stata anche la provinciale per Pramollo. La maggior preoccupazione l'ha creata il tagliamento che a mezzogiorno ha avuto un primo picco di piena transitato alla tisana con il livello di 4,96 metri. Nel pomeriggio si è registrato un secondo picco di piena a Venzone di 3,42 alle 15 che ha raggiunto poi la tisana alle prime ore appunto di quest'oggi. La protezione civile ha informato che è aperto il servizio di piena per i tratti arginati di competenza regionale e statale. Gli altri idromiti di riferimento del bacino Cellina-Meduna e del bacino dell'Isonzo del torrente Cornmore sono rimasti sotto i livelli di guardia. Quanto ai guadi in comune di Socchieve è chiuso quello sul Lumiei. La protezione civile regionale ha evidenziato come dall'inizio dell'evento abbiano operato complessivamente 650 volontari con più di 200 mezzi per intervenire e monitorare il territorio. Un centinaio di volontari operativi nei comuni interessati dal maltempo dalle mezzogiorno di ieri e sempre dalle 12 di ieri il numero unico di emergenza ha registrato 200 chiamati di soccorso dovute proprio al maltempo. Un buato nel cuore della notte, un baccomat fatto saltare un gruppo di uomini in fuga con un bottino che si aggirerebbe sui 50.000 euro. Gli abitanti di Terenzano sono stati svegliati l'altra notte poco dopo le due e mezza dall'esplosione provocata dai ladri che hanno fatto saltare il baccomat installato alla filiale della BCC Banca di Udile nel pieno centro della frazione in piazza Terenzio. Scattati gli allarmi sul posto sono intervenuti due pattuglie dei vigili notturni e i carabinieri della compagnia di Latisana. Per portare a termine il colpo i ladri sarebbero penetrati nell'istituto dopo aver sfondato un'uscita di emergenza e quindi raggiunto lo sportello del bancomat lo hanno fatto esplodere. In base ad alcune testimonianze i carabinieri si sono messi all'inseguimento di una vettura di grossa cilindrata utilizzata dai malviventi. L'auto sarebbe stata intercettata successivamente nella bassa friulana ma è riuscita a far perdere le proprie tracce. I ladri molto probabilmente erano diretti verso il Veneto. Sempre all'alta notte la squadra volante della questura di Udile verso le quattro ha ricevuto una segnalazione di furto in atto invece nel bar annesso all'area di servizio Kuwait in via Grado a Udile. I testimoni parlavano di un uomo che dopo essersi incappucciato ad aver forzato una porta d'accesso era scappato. Una volante è riuscita a ritracciare e a fermare l'auto in via Le Palmanova. La perquisizione all'interno del veicolo ha permesso di ritrovare diversi strumenti utilizzati per commettere furti, un piccone, un piede di porco e un flessibile. L'uomo in fuga, corrispondente alla descrizione fornita ai testimoni, ha ammesso di aver tendato di rubare le slot machine presenti nel bar. Si è poi accertato che, poco prima, aveva già messo a segno un furto all'interno di una bar a Martignaco, dove sono state sottrate due slot e una cambiamoneta, che sono stati ritrovati in un'area campestre poco distante dal luogo del furto e quindi sequestrati. E inoltre anche la macchina utilizzata per consumare i furti era oggetto di furto compiuto il giorno prima a Gorizia. Il ladro, MC, 29 anni, residente in provincia di Udine, è stato quindi arrestato in flagranza per furto aggravato e ricettazione. Ora sono in corso gli approfondimenti per capire se vi siano altri colpi a lui riconducibili. Il Comune aveva annunciato il pugno di ferro e dopo alcune settimane di relativa tolleranza la direttiva è stata messa in pratica. I mendicanti, specialmente in centro, erano tornati appena dopo il lockdown e assieme a loro era ripartita la ricerca di chi chiede la questua in modo insistente e fastidioso. Un'operazione che negli scorsi giorni ha dato i suoi frutti. Durante i servizi predisposti, anti accattonaggio per il corretto svolgimento del mercato, sono state fermate e identificate tre persone di origine straniera. Uno di questi proponeva in vendita ai passanti sulla pubblica via articoli commerciali non alimentari, trascinando con sé un vero e proprio negozietto ambulante adagiato su un carellino. La merce posizionata dall'infusa sul carellino e sulle varie parti del corpo dell'ambulante venivano posti poi sotto sequestro dall'unità della Polizia Commerciale per la successiva confisca con la elevazione a carico dell'uomo della sanzione amministrativa. L'uomo controllato è stato anche segnalato al questore per l'elevazione del cosiddetto daspo urbano con l'ausilio della squadra volante della Polizia di Stato che è intervenuta dopo la segnalazione dell'attività. Un secondo uomo è stato controllato in quanto stava vagando per il mercato con atteggiamento sospetto ed è risultato destinatario di un biglietto di invito presso la questura di Treviso per permesso di soggiorno scaduto ancora nel 2019. Un'altra persona, anche essa straniera, è stata controllata e sanzionata in quanto chiedeva insistentemente l'elemosina ai passanti e ai presenti. Si tratta di uno straniero, sussistendone quindi i requisiti, è stato gravato dal provvedimento di allontanamento dal territorio di Pordenone. Nella giornata di sabato la Polizia ha sorpreso anche un'altra persona straniera che chiedeva l'elemosina, questa volta infestidiva gli avventori di un bar avvicinandoli e insistendo per ricevere la questua. L'uomo è stato sanzionato per la inosservanza del regolamento di Polizia Urbana e munito del biglietto di allontanamento. Nel corso della settimana sono state poi messe in sicurezza delle aree abbandonate dove si erano formati dei giacigli di fortuna. L'area, una volta individuata, è stata immediatamente messa in sicurezza. È stata la prima emergenza post-lockdown, nonché il primo fattore che ha contribuito a far aumentare il nuovo numero di contagi in Friuli Venezia e Giulia. E ora in un periodo delicato per il rientro al lavoro di tante categorie professionali e la concomitante fine del periodo di vacanza per molte persone, il problema è tornato di estrema attualità. Il virus è tornato a bussare alle porte della regione dall'est Europa, cioè da quei paesi che già a luglio sono stati inseriti dal governo in una sorta di lista rossa, in quanto il loro sistema di sorveglianza non è giudicato efficiente come quello italiano. Che oggi il virus dell'est rappresenta un fattore, lo dicono i numeri, e per controllare una situazione potenzialmente pericolosa serve un nuovo sforzo da parte dei comuni e del sistema di prevenzione. Solo nell'ultima settimana il contagio proveniente dall'Europa dell'est ha generato più di 40 casi in tutta la regione. Se si esclude il tracciamento dei contatti, cioè la fase successiva alla individuazione di primi positivi di un eventuale focolaio, l'importazione di casi dai Balcani e dall'est in genere ha avuto lo stesso peso rispetto al contagio derivato da rientro delle vacanze dei cittadini del Friuli Venezia e Giulia. È in proporzione un peso nettamente maggiore rispetto ai casi positivi riscontrati tra i decadenti asilo rintracciati in regione nell'ultima settimana. La nuova ondata dall'Europa orientale si è manifestata ad esempio a Sequals, nell'alta pianura pordenonese, quando alcuni braccianti di nazionalità rumena sono risultati positivi al termine della quarantena. Stavano trascorrendo il periodo di isolamento di 14 giorni in una fattoria, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Quanto a distanziamento e protezioni, così dai primi due positivi i casi sono raddoppiati e gli isolamenti sono stati prolungati, adatta da destinarsi. In altre zone della regione, con un occhio particolare alla provincia di Udine, i contagi dall'est Europa si sono moltiplicati nell'ultima settimana. Si è trattato, dati alla mano, di cittadini provenienti soprattutto dall'area dei Balcani, Kosovo, Serbia, Romania, Macedonia. Ecco i paesi che oggi esportano più contagi in Friuli Venezia e Giulia. Ci sono poi alcuni casi che derivano da focolai esistenti in Ucraina e Moldavia. Altri due stati inclusi nelle ordinanze che prevedono la quarantena obbligatoria rientro in Italia. I cittadini che tornano in regione dai paesi dell'est a rischio contagio devono rimanere in quarantena per 14 giorni, ma non ci sono abbastanza strutture per l'isolamento sul territorio e ad esempio nel caso delle badanti si rischia di assegnare come luogo per l'isolamento il posto di lavoro stesso, cioè la casa della persona assistita. La Regione procede nel dare contenuti ai nuovi enti di decentramento regionale, realtà che non possono chiamare nuove province, istituto cancellato dallo statuto dalla Regione con legge costituzionale, ma che ad esse si ispirano come dimensione territoriale, ne sono stati istituiti quattro, ognuno a comprendere, gli ex territori provinciali come realtà intermedie tra Comuni e Regione e come immagine, dopo che venerdì la giunta presieduta dal Presidente Massimiliano Federica ha dato il via libera ai quattro loghi simbolo. Con il primo luglio ciascuno dei quattro EDR, quelli di Udine, Pordenone, Golizia e Trieste, ha preso in carico la gestione del patrimonio scolastico, costituito dagli edifici che ospitano le scuole superiori di ogni ex provincia e ora si appresta a farsi carico della gestione ordinaria, sfalcio compreso, delle ex strade provinciali. Entro l'autunno modificeremo la norma che consentirà il trasferimento della competenza della gestione delle ex strade provinciali da Friuli-Venezia-Giulia-Strade agli EDR, conferma l'assessore regionale dell'autonomie per Paolo Roberti. Dopo la soppressione delle province, la competenza su queste strade era stata trasferita alla società in house della regione Friuli-Venezia-Giulia-Strade, ma i risultati non sono stati di certo fantastici, evidenzia Roberti, con l'aggiunta che con il trasferimento del personale provinciale si è creata una realtà con differenze contrattuali che hanno creato tensioni e che vanno risolte. Sarà di competenza degli EDR anche la rete delle piste ciclabili ormai articolata. Un disegno che non piace assolutamente all'opposizione in Consiglio regionale, sin da subito contrario alla Costituzione di realtà che fanno fare un passo indietro che non giova a nessuno, ribadisce la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Ilaria Dalzovo. Gli EDR non servono. Per la gestione delle strade è sufficiente Friuli-Venezia-Giulia-Strade, sostiene la pentastellata, quanto l'edilizia scolastica alla direzione centrale dell'assessorato competente a mezzi e risorse per gestirla. Al limite si sarebbero potuti fare degli uffici decentrati nelle cinque sedi che la regione ha già sul territorio. Lettura smontata da Roberti che evidenzia Friuli-Venezia-Giulia-Strade è un ente strumentale adatto per le opere strategiche, dai ponti alle gallerie per la gestione delle grandi arterie. Un realtà efficiente in questa dimensione non è detto che lo sia in un altro contesto, ognuno deve svolgere i compiti per cui è tarato, ribadisce, e nello specifico si tratta di attivare una gestione che sia vicino al cittadino e alle sue esigenze, un ente con il quale il sindaco possa rapidamente segnalare che c'è lo sfalcio da effettuare o che in tutto il tratto manca il sale dopo una nevicata. Sono servizi che incrociano la vita quotidiana di cittadini e che devono essere garantiti in maniera efficiente. Rispedite al vittente anche le possibili osservazioni su un aumento dei costi rispetto alla precedente organizzazione istituzionale, una stupidaggine, dice Roberti. Gli unici costi risparmiati con il taglio delle province sono stati quelli dell'indenità dei consiglieri, abbondantemente compensati dal trasferimento dei dipendenti provinciali in regione con il relativo adeguamento di retribuzione. Anche il Partito Democratico però non demorde alle critiche e smonta la consistenza dei nuovi VDR, già delle province pochi sentono la mancanza, credo nessuno volesse ulteriori uffici regionali perché questi sono. È una regione ancor più accentatrice a discapito dei comuni, considera il segretario regionale di IDEM, Cristiano Sciaurli, che bolla i nuovi loghi come l'ultima puntata di un gigantesco imbroglio che sta andando avanti dalla campagna elettorale. La Lega ricostruisce, ha promesso prima un ritorno al passato con nuovi consigli e giunte provinciali eletti per creare altre comode e inutili poltrone, mentre i lavoratori e le imprese non sanno che farsene attendono istituzioni in grado di dare risposte migliori, più efficienti e più veloci, dice ancora dal PD. Fallito per ora questo tentativo è totalmente fallita la riforma dagli enti locali che non ha risolto un problema ai comuni e non ha visto nascere nemmeno un'aggregazione. Si passa ai disegnini, ribadisce il Partito Democratico. Comaro Berti evoca proprio il PD, partito di maggioranza nella scorsa legislatura riguardo all'eredità ricevuta in conto l'edilizia scolastica. C'erano lavori fermi per milioni e milioni perché le uti dei capoluoghi non avevano dirigenti e tecnici, sostiene, cito solo i 40 milioni sul Manigliani di Udine e un'altra ventina di milioni per l'edilizia triestina. Abbiamo ereditato un'emergenza a cui ora si è aggiunta la complessità generale del Covid. Tra le vette e il mare del Friuli Venezia Giulia c'è una terra di mezzo, tanto affascinante quanto dimenticata. È la terra delle valli del Natisone, ormai ribattezzata dai suoi stessi abitanti una valle di lacrime dove il turismo è diventato un miraggio. Le opere pubbliche si fermano per tutelare una specie protetta di rana e la promozione di un luogo ricco di natura e storia di fatto non esiste. Qui scorre il fiume Natisone che dà il nome a queste valli conformate dal suo bacino, un fiume che tutti i friulani conoscono, o quasi. Gli abitanti raccontano non senza perplessità un aneddoto che potrebbe far sorridere. Un giorno, godendosi un pranzo e ammirando lo scorrere dell'acqua verdolina del fiume di fronte al quale si taglia la cima del monte Matajur, simbolo delle valli e ultima linea di difesa italiana durante la Grande Guerra, un ex assessore regionale chiese il nome di quel torrente agli stupiti ristoratori del luogo che, per Garbo, non rivelano il nome del politico nemmeno su insistenza, ma non nascondono per sempre con Garbo la trascuratezza verso quei luoghi intrisi di storia a due passi da Caporetto. A dare voce al tanto ma coltento è Patrizia Marinig, titolare dell'albergo, ristorante alla Trota di Pulfero, un ambiente che se ne sta lì da cento anni. Negli ultimi anni qui si lavora nei mesi estivi, mentre d'inverno è un lockdown da anni e non solo perché fa freddo, manca un richiamo per poter soggiornare da queste parti e qui l'inverno dura da novembre a marzo, racconta, ma nemmeno d'estate c'è il vero turismo, se non quello degli emigrati che tornano qui d'estate. Così le valli continuano a spopolarsi ed andarsene sono soprattutto i giovani che trovano maggiori possibilità altrove. Il piccolo abitato di Monte Fosca, ad esempio, contava 600 residenti, oggi sono rimasti in 30. Un tempo qui c'era anche la scuola e diversi bar, c'era vita, dice Patrizia, senza considerare il bilancio di questo 2020 che non fa testo perché è una situazione eccezionale, ma che comunque ha tolto quel po' di movimento, magari di gruppi di turisti che arrivavano in pullman per godersi le varie feste paesane e caratteristiche e visitare luoghi molto belli come la grotta di San Giovanni d'Antro, uno dei principali richiami della zona oggi chiusa a causa del Covid. Molte famiglie sono arrivate da noi per visitare la grotta, una chiusura ridicola, basta organizzare piccoli gruppi per le visite e supernotazione. Posso capire che il gruppo di speleologi che ha in capo la gestione non voglia prendersi delle responsabilità, ma quelle ce le abbiamo tutti, dice ancora Patrizia. A pochi passi si trova la grotta del calzolaio, ben spiegata da cartelli regionali e sito di grande interesse. Peccato che non sia accessibile, almeno da un paio d'anni, tra tronchi di schiantati e erba alta. Ma qui il vero tasto dolente è la pista ciclabile, un'opera già finanziata che potrebbe dare una boccata d'ossigeno al territorio, visto il passaggio di tanti cicloturisti. I lavori dovevano iniziare lo scorso anno, poi è stato scoperto che nella zona di Stupizza dove doveva transitare c'è una specie rara di rana e piante e flora da tutelare ed eviare la pista in un'altra zona le chiedeva un ulteriore investimento di 10 milioni di euro, quindi si è bloccato tutto nuovamente. E così la rana, con tutto rispetto per l'anfibio, batte il turismo. Ora pare che ci sia un accordo, ma intanto passano gli anni e tre ne sono già trascorsi, aggiunge Patrizia. Ma se parliamo dello spopolamento di una valle, che potenza può avere una rana per un'intera vallata? Ci fermiamo con questa edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Non prima di avervi ricordato che potete seguirci sulla pagina Facebook di Media24. Grazie a voi tutti per essere con noi e buon proseguimento con i programmi della Rete.